Gianluca Graziosi, una serata così forse potevamo solo immaginarla nei sogni più belli. Io onestamente la sognavo perché ci tenevo con questi ragazzi a vincere una partita di quelle, tra virgolette, importanti. Stasera siamo stati, non dico perfetti, ma la perfezione non esiste, però ci siamo andati vicini. Anche perché Siena è un avversario che sapevamo che sarebbe venuto qua per dare continuità con un primo posto da riagganciare. Invece noi abbiamo dato prova di grande compattezza, grande solidità e soprattutto forse la differenza l'ha fatta ancora la pressione. Sì, noi adesso in questo momento giochiamo sereni. Addirittura sabato scorso, forse per la prima volta in questi playoff, abbiamo giocato un pelino, facendoci tra noi un po' di pressione e sai com'è andata. Quindi noi dobbiamo giocare così. Ho chiesto ai ragazzi di giocare col sorriso e credo che ci sono riusciti. Quel sorriso che adesso dobbiamo prolungarlo il più possibile. Anche perché si gioca ogni tre giorni, quindi c'è un giorno appena per gustarci questa vittoria. e poi da venerdì mattina ci rituffiamo perché abbiamo comunque subito un'altra partita importante perché adesso non dobbiamo, tra virgonette, rovinare quello che abbiamo fatto di buono.